18 miliardi sequestrati alle mafie negli ultimi cinque anni. Questi dati comunicati dalla Guardia di Finanza, una cifra che corrisponde ad oltre l'1% del PIL. Di questi, 7 miliardi sono frutto di confische e sono rientrati definitivamente nelle casse dello Stato, mentre i sequestri ammontano a quasi 11 miliardi. Beni mobili e immobili, confiscati e sequestrati, sono frutto di oltre 10.000 accertamenti svolti dai finanzieri, con una media di più di 5 al giorno e di circa un milione di attività rispettive all'anno. Gli accertamenti hanno riguardato 55.000 persone. A dicembre 2019, l'Istat registra un clima di fiducia più favorevole rispetto a novembre sia per le imprese, il cui indice aumenta dal 99,2 al 100,7, sia per i consumatori, con una crescita da 108,6 a 110,8. Secondo l'Istituto, l'indice dei consumatori ha parzialmente recuperato la caduta di novembre, con un decisivo miglioramento delle opinioni sia sulla situazione economica italiana che sulla situazione personale. Per quanto riguarda le imprese, invece, l'indice è ai livelli massimi da luglio, con progressi in ogni settore, primo tra tutti il commercio, dove il dato, 110,9, è il migliore da dicembre 2017. Durante i primi nove mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2018, i controlli eseguiti dai carabinieri forestali sono aumentati del 10,7%, i reati perseguiti del 25,4% e gli illeciti amministrativi accertati del 5,3%. Questi sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio dell'azione svolta dal corpo per il contrasto degli ecoreati sul territorio nazionale. I principali illeciti rilevati riguardano rifiuti, traffico di specie animali e piante in via d'estinzione, bracconaggio e pirateria agroalimentare. Molto importante è anche l'argomento incendi boschivi, campo per cui si sta sviluppando un'attività di intelligence che utilizzerà nuove tecnologie e algoritmi per contrastare e prevenire la piromania. Lavorare per molte ore dietro a una scrivania potrebbe aumentare il rischio di ipertensione nascosta, termine che identifica una pressione alta nonostante le misurazioni fatte diano indicazioni normali. A suggerirlo è uno studio della Laval University in Quebec che ha arruolato oltre 3.500 impiegati e ne ha misurato la pressione sanguigna durante il primo, terzo e quinto anno. All'interno di uno studio medico allestito sul posto di lavoro i medici hanno effettuato misurazioni tre volte al giorno. Per il resto della giornata i volontari indossavano invece un dispositivo di monitoraggio della pressione. Quando i ricercatori hanno analizzato i dati tenendo conto dei fattori che potrebbero influenzare il rischio di ipertensione come lo stress e il fumo, giusto per citarne un paio, hanno scoperto che chi trascorreva lunghe ore di lavoro alla scrivania aveva il 66% in più di probabilità di avere la pressione alta e il 70% di probabilità in più di avere la cosiddetta ipertensione mascherata.